Grande Fratello Vip, i concorrenti schierati contro la mamma di Giulia Salemi Anche nella casa del Grande Fratello Vip ci sono commenti negativi per la situazione tra Giulia Salemi e la mamma Fariba Terani. Grande Fratello Vip, tutti schierati contro Fariba. Luscita di Giulia Salemi nellultima puntata del Grande Fratello Vip, mandata al televoto per colpa della mamma Fariba, che ha infranto il regolamento, ha creato una serie di discussioni in casa. Andrea Mainardi è stato il primo a dire che a sbagliare è stata anche Giulia. Il motivo? In diretta è stato mostrato un video in cui Giulia parlava alla mamma in persiano, la traduzione non è piaciuta ad Andrea. Nel video abbiamo capito che Giulia chiedeva alla mamma consigli e indicazioni su cosa fare e come comportarsi con Francesco. Ma se tu hai sempre detto che hai voluto fare questa esperienza per staccarti dalla mamma, perché poi fai così?. Il pensiero dello chef è quello di tutti. Anche Benedetta Mazza ha voluto dire la sua. Secondo la presentatrice il rapporto tra Giulia e Fariba è completamente sbagliato. Non è il modo giusto di avere un rapporto madre-figlia. Giulia dipende troppo dalla madre e la madre è troppo invadente. Anche i miei genitori mi dicono se sono d'accordo o no con quello che faccio, ma è un'opinione, poi mi lasciano vivere la mia vita com'è giusto che sia. Francesco Monte su Giulia Salemi e la mamma Fariba, hanno un rapporto troppo morboso. L'opinione più contrariata è arrivata, inevitabilmente, da Francesco Monte, il quale ha iniziato una relazione con Giulia Salemi. Più volte il modello pugliese aveva detto a Giulia di non condividere alcuni atteggiamenti della madre, ad esempio quando le diceva che cosa doveva fare. Dopo l'ultimo episodio Francesco ha continuato sulla stessa linea. Fariba sbaglia ad essere così invadente nella vita della figlia. Ma anche Giulia non riesce a staccare questo cordone umbilicale, la prova è il video che abbiamo visto. Chiede conferme, chiede indicazioni su come fare. Hanno un rapporto molto morboso e questo, secondo me, è sbagliato. Non fa bene ad entrambe. Giulia Salemi e Fariba Terani, tensione tra mamma e figlia. Giulia si è arrabbiata molto con la madre per come è intervenuta più volte nel corso del reality. L'influencer aveva espressamente chiesto di essere libera di fare le proprie scelte senza di lei, invece Fariba non ha rispettato questa richiesta. Una volta uscita, Giulia Salemi non ha voluto vedere la mamma mandandole anche un messaggio molto forte nel quale diceva di non volerla più sentire né vedere. Ciao! 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 a body's heart